Perchè? Perchè? Diciamo che questo sia un rapier lo prendete come un rapier e lo vuoi stagliare? Questo è l'attacco italiana ma le tecniche medievale sono tutte le francese La prima cosa che è molto importante è il movimento con la taglia Per esempio se si attacca l'altra parte mi entra a questa parte perché mi sono scoperto e da qui posso fare non lo so questo andiamo andiamo e da qui posso fare 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 perciò abbiamo 100 sistemi se si attacca l'altra parte se si attacca l'altra parte se si attacca l'altra parte se attacca l'altra parte la parte si che si attacca l'altra parte si volete le stranze quindi diciamo la prima parte la parte questa è la prima parte di defensa e la prossima e la seconda il secondo, quando questo è qui. Perché? Perché possiamo disarmarlo molto facilmente. Abbiamo anche l'apparata alta e l'apparata bassa. Perché se stai qui, non hai le braccia, perché se no il l'altro fa forte, io posso andare alla coltira. Ma qui, anche se vado giù, non posso dire l'altro fa forte. Se spingo con due mani, tu puoi fare quello, capito? In questa posizione. In questa posizione. In questa posizione. In questa posizione. Quindi provate le 4 basiche. Il primo è prendere la parte la parte la parte. Quindi proviamo le 4 attacchi base. Qui, lato sinistro. Non provate! Non provate a stopare l'attacco come questo. Perché vai a spingere il tumpo. Sempre, quando hai una base, facciate questo. Perché da qui... Non provate. Non provate. Perché da questa posizione. Puoi prendere il. Puoi disarmare il. Puoi fare quello che vuoi. È il vostro. È il vostro. Quindi vi praticate. Questo è il rimste. Se divenete il vostro lato destro. Qui qui. Lo vi Conauto. E drei. Se fate l'upper... Vado questo lato. O vado l'altra. Perché eseg secureded gli altri kotanas. Scusate da un lato o dall'altro perché siete fuori dalla lama. Secondo, questo è la scelta più bassa. Facciamo protezione da questo lato o da questo lato. Perché? Perché da qui puoi andare da qui. E anche se l'opponente ti attacca dall'alto... ...e qui puoi andare da qui. La tecnica è che quando l'opponente ti attacca, ti attacca da qui e ti attacca dall'alto. La tecnica basa è che quando l'avversario attacca, ti sposta con la sinistra e va sull'altra. E sempre hai la mano scelta. Quindi quando ti attacca, ti attacca da qui. Perché se non lo attacca, ti attacca da qui, ti attacca da qui. E poi io posso fare questo, questo e poi andarlo dentro. Ok? Se vedo che è arrivato al mio stomaco, ti attacca da qui, ti attacca da qui, ti attacca da qui. Ti attacca, tu attacca da qui. Edicino, poi tu attacca. Sì, puoi fare questo anche, ma non puoi farlo perché sono più veloce. Ok, un'altra volta. Hop, hop, hop. La cosa più importante per questa tecnica è che, dopo che avete fatto la parata con questa parte, poi andate qui, girate, andate a prendere il dolso. Anche, puoi fare disarmi. Si può fare anche un disarmo. Hop. È molto semplice, ok? Facciamo il primo sistema. Facciamo il primo sistema che significa, hop, 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 hop. Andate qui, andate qui, andate qui, andate qui, andate qui. Quando fate questa tecnica, la cosa più importante è come farla con le vostre gambe. Quando fate questa tecnica, la cosa più importante è come farla con le vostre gambe. Con questa mano pausa questa è إلى, quindi andate nella vostra crumbs,cakes qui qui, e poi l'oponare è Probably 300% down. Hop! Hop! Hop!, ah! Hop! Quando mettete la gamba e piegata, quando lo tirate giù, bam, bam. Quando mettete la gamba, prendete la gamba e poi ripetete. E' un'importante cosa, quando mettete l'oponente sull'interno, quando mettete l'oponente sull'interno, non lasciate la sua mano libera. Perché se prendete la mia mano fuori dalla sua mano, mi può stare qui, 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 qui. Quindi sempre la prendete e poi stare. Quindi quando mettete l'oponente sull'interno, girate più e poi ripetete. Manno giù, girate ancora di più. Trostolina morosa. Ok, fate la protezione, iniziate a girare. Ma lui può girare la sua daga, rientrare e attaccare di nuovo la faccia. e poi copriate la sua mano con la daga. Faccio l'olio, come questo. Lo fa vedere un po' più piano. Marco, vedete, sta provando a fare la presa. Va sempre a uscire dalla direzione della daga. Se Marco attacca mentre sta facendo la daga. Se Marco attacca mentre sta facendo la daga. La daga. Si. Si. Vedete, Marco adesso sta facendo la presa e attacca nel mentre che fa la presa. Il maestro Peter Koza non potrebbe andare a parare se non uscisse col coltello. Perciò tira fuori la lama, va a parare. Perché se lascia la lama lì, lui è troppo corto. La sua lama gli entrerebbe comunque. Quindi tira fuori la lama, va a parare e riattacca. In questo caso Marco va di nuovo a parare con il braccio armato con la daga. Un'altra cosa importante è che la mano sinistra non deve stare dietro, non deve neanche ruotare intorno al corpo, ma deve sempre avere un controllo, deve essere frontale. Se la sua mano è dietro non può fare nulla, quindi deve stare davanti. Per un'affrontazione. Comunque il combattimento con la daga è molto veloce. Super. Ok? Ok. Non fate questo perché troppo. Questo è quello che faremo. Questo è quello che faremo. Questo è quello che faremo. Ok? Un'altra volta lentamente. Ok? Ok? Un'altra volta lentamente. Un'altra volta lentamente. E' quello che faremo. Oh! Ma troppo male! 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 E' quello che faremo. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. Abbiamo due tipi di wrapping. Possiamo andare da sotto. O possiamo andare... ... ... ... ... ... ... in questo caso se fa una apertura come puoi mettere la mano fuori delle scuole? se è una scuola scuola, se è una forbice bassa allora girate la daga, passate attraverso le mani dell'avversario e colpite lo stomaco se fa una forbice alta, passate sotto e attaccate alla gola ok? con la daga bloco il suo braccio dopo questo lo vedete il suo braccio? io lo spusco, lo spusco 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 altro l'uropa lo spusco così l'uropa guardare lo spusco ok, hai capito? ok, hai capito? quindi facciamo la prima la prima è sotto questa è la prima versione la seconda versione è la nostra hop 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 occhio a questo perché se andate tanto pesanti cioè anche un pelo più del necessario ok, and the third version which basically in open combat fight you can't use la terza versione in un combattimento vero e molto difficile non si può usare può essere usata ma è veramente difficile andate lì, bloccate passate passate basse 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 lo metti sull'escrizione e si è mobilizzato, provi a riuscire, non si può riuscire, perché sto sull'escrizione sull'escrizione. Solo il contatto di questo è quando si faccia un circolo, questo è solo il contatto di quello che si può riuscire, ma si può riuscire molto più veloce, sull'escrizione sull'escrizione e si è tornato in grado di combattimento.